La grande musica nel chiostro del palazzo comunale di Arezzo. Prosegue così il Terre d'Arezzo Music Festival che adesso ha toccato il cuore del centro storico Aretino con il concerto del duo Violino Pianoforte, Silvano Minnella e Flavia Brunetto con le musiche di Mozart, Debussy e Grieg. Il festival proseguirà sino a domenica 22 agosto attraversando molti comuni della provincia di Arezzo con un programma ricco di concerti ed eventi musicali. Il martedì 10 agosto presso la residenza Il Verreno a Bucine un concerto dedicato al tango con il quartetto Hiperion Guardia Vieja che propone un percorso dagli albori del tango fino ad Astor Piazzolla. Invece poi il festival prosegue ad Arezzo con Arezzo Organ Festival il 14 agosto presso la chiesa del Sacro Cuore in Piazza Giotto e il 15 agosto tradizionale concerto di Ferragosto a Montevarchi presso il chiostro di Cennano con un appuntamento dedicato al jazz.